buongiorno a tutti video a 1080p da Vico Fever vediamo l'adattamento al fuoco che mi sembra abbastanza buono e veloce ok facciamo un pan veloce oggi non c'è sole quindi non aspettatevi contro luci altro perché qui c'è una nebb incredibile pan veloce che ha display abbastanza scattoso facciamo il solito zoom senza fare cadere magari il telefono segnato a 4x possibilità di tappare per mettere un po' fuoco meglio video torniamo al fuoco ad 1x facciamo dei passi a display da anche la sensazione di essere un video abbastanza stabilizzato e poi considerate che io cammino come se fossi sempre in mezzo al terreno guardi allora ritorniamo alla macro che come vedete reagisce bene al cambio del fuoco quindi tutto sommato nella parte video non si fa troppo lamentare adesso tentiamo di fare un cambio luce più che contro luce che anche su questo mi sembra abbastanza veloce bene torniamo su una macro ripeto video a 1080p da Vico Fever ciao a tutti